Pinal porta valori ritrovati Kalashnikov e il furgoncino d'Oblò utilizzati per il colpo e caccia ai componenti della banda che ha saltato l'ufficio postale di Casalini, frazione di Cisternino Pronti ad intervenire con tavoli tematici su aerospazio, chimica ed energia così il presidente della provincia di Brindisi Riccardo Rossi risponde attraverso Studio 100 TV all'appello lanciato da Confindustria e Sindacati Nuovo raccordo ferroviario di Costa Morena Est si affaccia a un nuovo operatore intermodale per collegare il porto di Brindisi all'arresto d'Italia ed Europa tra pochi giorni l'avvio del servizio Interdizione dall'esercizio delle attività commerciali per la durata di un anno a carico di un ristoratore brindisino del centro storico indagato per condotte estorsive nei confronti di una delle sue dipendenti Presentati a Brindisi i primi sei tra gli agenti neoassunti a tempo indeterminato unitamente a cinque agenti assunti a tempo determinato si allarga così l'organico della polizia locale Cambia l'orario di Lavello Brindisi gara d'andata della semifinale nazionale dei playoff per l'accesso in Serie D la partia si giocherà alle ore 15.30 a Venosa Tutto pronto per il secondo turno dei playoff della Virtus Franca Villa domani a Potenza la formazione di trocini alle 20.30 affronterà la squadra locale varrando le stesse regole del primo turno Ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale martedì 14 maggio 100 notizie Brindisi che apriamo con la cronaca torniamo sull'assalto di ieri mattina al Porta Valori in una frazione di Cisternino proseguono le indagini erano tre i banditi che hanno composto la banda un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia visto come è andato e soprattutto in virtù del fatto che sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov le ultime novità in questo servizio e poi un ulteriore aggiornamento che ci è giunto in redazione da parte dei carabinieri un colpo che presenta ancora tanti aspetti da chiarire sono stati rinvenuti in una contrada nelle campagne di Ostuni nel pomeriggio di ieri lunedì 13 maggio sia il furgoncino, il Fiat Dobloch e i Kalashnikov utilizzati dai banditi che ieri mattina hanno assaltato l'ufficio postale di Casalini frazione di Cisternino una rapina pianificata nei minimi dettagli al Porta Valori che ha fruttato un bottino di 31.000 euro durante l'assalto i banditi hanno sparato almeno 10 colpi di arma da fuoco senza fortunatamente provocare feriti i banditi sono riusciti a prelevare una sacca di denaro dalle mani di uno dei vigilantes che stava entrando nell'ufficio per depositare i soldi sull'episodio indagano i carabinieri gli assalitori sarebbero tre fuggiti a bordo del Fiat Doblo ritrovato nel pomeriggio i due vigilantes, uno di San Vito dei Normanni l'altro di Lecce, sono stati trasportati immediatamente presso l'ospedale civico di Ostuni a scopo precauzionale i militari li hanno ascoltati ieri sera per raccogliere elementi utili alle indagini contestualmente è stata comunque disposta l'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona e allora ulteriori aggiornamenti mentre è caccia all'uomo non soltanto evidentemente in provincia di Brindisi fanno sapere i carabinieri che il furgone è stato ritrovato a circa 6 km di distanza incontrato a Porcaro ad Ostuni con estrema professionalità i militari intervenuti tra i quali un maresciallo hanno seguito le orme degli pneumatici su di un tratturo sterrato grazie anche alle indicazioni fornite da un elicottero dell'arma che sin da subito ha perlustrato l'intera zona permettendo così di rinvenire il veicolo utilizzato per la fuga lo stesso era collocato in un sito ben occultato il mezzo si presentava con il motore ancora caldo e l'immediata ispezione dei luoghi del ritrovamento ha consentito di individuare all'interno di uno zainetto nascosto nella vegetazione alcune armi e a poca distanza occultato in un cespuglio una busta contenente quasi 400 chiodi a quattro punte e due giubbetti antiproiettile il tutto ovviamente è stato sottoposto a sequestro riguardo alle armi rinvenute si tratta di un AK-47 Kalashnikov con caricatore vuoto una pistola mitragliatrice VZ-61 Scorpion completa di caricatore con 19 proiettili armi micidiali da guerra per le loro potenzialità nonché un fucile calibro 12 con 11 cartucce del medesimo calibro e un cinturone operativo con la pistola beretta con caricatore sottratti all'operatore di vigilanza tutte le armi dei rapinatori si presentavano con matricola a brasa il tempestivo sopralluogo da parte del personale tecnico della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Bari coadiuvato dagli operatori del nucleo investigativo di Brindisi specializzato nei sopralluoghi e nel repertamento ha permesso di rilevare anche materiale biologico fondamentale tra cui tracce matiche, sangue e altro al fine dell'identificazione degli autori di questo assalto quindi come avete sentito stando alle armi che sono state ritrovate davvero poteva trasformarsi in tragedia questo assalto al portavalori che stava trasportando soldi per l'ufficio postale di questa frazione di Cisternino lasciamo per il momento la cronaca la ritroveremo più tardi adesso torniamo a parlare della vertenza Brindisi dopo l'SOS il grido allarme lanciato nei giorni scorsi da Confindustria, CNA e organizzazioni sindacali attraverso i nostri microfoni è arrivata la risposta del presidente della provincia di Brindisi Riccardo Rossi siamo pronti ad attivare tutti i tavoli necessari per provare a rilanciare l'economia del nostro territorio così il presidente della provincia di Brindisi e sindaco del comune capologo Riccardo Rossi risponde attraverso Studio 100 TV all'SOS lanciato nei giorni scorsi da Confindustria, CNA e le organizzazioni sindacali CGL, Cisle, Will sull'emergenza economico-occupazionale del territorio Brindisino dobbiamo essere uniti in questa battaglia in questo lavoro dice Rossi il grido d'allarme ci sta tutto negli ultimi anni la situazione è precipitata sindaco a proposito di economia nel momento difficile che viviamo qualche giorno fa in Confindustria c'è stato un SOS lanciato da Confindustria CNA, organizzazioni sindacali hanno anche chiesto al sindaco più che altro il presidente della provincia in questo caso di farsi promotore di queste istanze ecco qual è la sua impressione rispetto a questo grido d'allarme secondo lei esagerato innanzitutto? No, no non è esagerato sappiamo che le situazioni sono estremamente difficili c'è un passaggio epocale a Brindisi nella trasformazione anche del mondo stesso industriale sappiamo quello che sta succedendo con la decarbonizzazione con tutti i processi produttivi che cambiano pelle perché cambia pelle il mondo che ci circonda e su questo ne parlavo poco fa anche col presidente di Confindustria attiveremo quei tavoli su cui ci eravamo lasciati tavoli tematici aerospazio chimica ed energia per discutere delle proposte per discutere con le grandi aziende anche delle prospettive che vi sono qui in terra di Brindisi ora ci occupiamo di trasporti in particolare del nuovo raccordo ferroviario di Costa Morena Est si è affacciato infatti a Brindisi un nuovo operatore intermodale potrebbero aggiungersene altri nei prossimi mesi per collegare il porto di Brindisi e il resto d'Italia ed Europa tra pochi giorni l'avvio del servizio che è stato presentato questa mattina l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico punta a rendere il porto di Brindisi un hub internazionale per la logistica integrata sfruttando il nuovo raccordo ferroviario recentemente completato ciò a beneficio non solo dei traffici portuali ma anche delle numerose imprese presenti nella zona industriale Brindisina conferenza stampa Brindisi per illustrare l'iniziativa imprenditoriale del gruppo GTS per collegare il porto di Brindisi attraverso la nuova piattaforma intermodale e logistica di Costa Morena Est al resto d'Italia ed Europa iniziamo a vedere i frutti di mesi di lavoro forse dei primi due anni di lavoro la piastra intermodale era realizzata quando mi sono insediato ma non era operativa per essere operativa ha avuto bisogno di numerosi passaggi amministrativi molto complessi passaggi che sono stati superati grazie alla collaborazione di molti ovviamente non possono ringraziare il presidente del Consorzio Asi che ha collaborato effettivamente con noi e ovviamente RFI con cui abbiamo contrattualizzato tutto il rapporto e quindi un servizio che partirà da Brindisi i treni partiranno da Brindisi caricando merce qui a Brindisi la merce sarà caricata ovviamente dalle imprese portuali autorizzate nel porto di Brindisi che sono quasi tutte brindisine lo dico giusto per evitare polemiche inutili e dopodiché questa merce questi treni arriveranno a Bari si fonderanno con altri treni e da là potranno giungere in tutta l'Italia e anche in tutta Europa perché la rete di GTS è veramente una rete imponente attraverso attraverso la nuova linea di trasporto ferroviaria che si collegherà direttamente alla rete ferroviaria nazionale di RFI le merci sbarcate nel porto di Brindisi e quelle prodotte dalle aziende che operano nella zona industriale avranno così l'opportunità di raggiungere il resto d'Italia ed Europa con una modalità trasportistica sicura rapida ed economica è chiaro che noi crediamo che ci possa essere un grande sviluppo in questo territorio sia per quanto riguarda i flussi di merci che arrivano via mare ma anche per le industrie locali che possono approfittare di questo servizio GTS oggi effettua 4.200 treni l'anno che partono da Bari e Piacenza Milano e Bologna e per tutta l'Europa con le nostre antenne che collegano Bari con il Nord Italia con 24 treni una settimana in andata e 24 in ritorno creeremo da Brindisi un collegamento non dico giornaliero sarebbe sperare troppo però almeno tre volte alla settimana e sperando che il territorio reagisca bene su questo e appoggi questa iniziativa che ripeto ha tutto vantaggio del territorio economicamente innanzitutto ma poi ambientalmente è una cosa abbastanza sostenibile basta pensare che un treno completo è l'equivalente di 30 camion per strada fatti moltiplicatore vedete due cittadini si sono presentati presso la sede del gruppo dei carabinieri forestali di Brindisi consegnando una cassetta di plastica rinvenuta nel quartiere San Paolo all'interno della cassetta 22 giovanissimi esemplari di testudo Ermanni la tartaruga terrestre che è assoggettata al massimo regime di tutela dalla convenzione internazionale di Washington del 1973 le testugini stiamo vedendo le foto in buone condizioni di salute sono state sottoposte a sequestro penale e affidate in custodia allo zoo safari di Fasano attrezzato per il loro accoglimento e mantenimento i carabinieri forestali hanno inoltrato alla procura della Repubblica di Brindisi un'informativa di reato contro i gnoti in quanto la detenzione di esemplari di testudo Ermanni è vietata nonché per abbandono di animali essendo le 22 tartarughine il probabile prodotto di una schiusa di uova ad adulti legalmente detenuti sono in corso accertamenti in zona al fine di individuare i responsabili dell'abbandono e della detenzione abusiva di fauna protetta interdizione dall'esercizio delle attività commerciali per la durata di un anno a carico di un imprenditore un ristoratore Brindisino che avrebbe preteso troppe ore di lavoro dai suoi dipendenti in particolare la denuncia per estorsione scattata dopo una lite con una sua dipendente in particolare vediamo i militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Brindisi hanno eseguito un provvedimento del tribunale che ha disposto l'interdizione dall'esercizio delle attività commerciali per la durata di un anno a carico di un imprenditore brindisino indagato per condotte estorsive nei confronti di una delle sue dipendenti nel dettaglio i riscontri effettuati dalle fiamme gialle hanno fatto emergere un sistema illecito di gestione del personale da parte del titolare dell'impresa consistente nel costringere sia la dipendente che poi lo ha denunciato che gli altri collaboratori dietro la binaccia del licenziamento a prestare l'attività lavorativa per un numero di ore superiori a quelle contrattualizzate nonché ad accettare stipendi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di settore bar e ristorazione il giudice per le indagini preliminari così su richiesta del pubblico ministero ha emesso un provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attività commerciale per la durata di 12 mesi nei confronti dell'imprenditore indagato contestati anche numerosi illeciti amministrativi in materia di contrasto al lavoro sommerso e regolare gli ulteriori accertamenti hanno permesso di accertare l'impiego di 5 lavoratori in nero per un periodo di tempo di circa due mesi l'irregolare registrazione di altri 13 lavoratori nonché un'evasione contributiva per oltre 20 mila euro ci fermiamo adesso c'è un po' di pubblicità la linea va alla regia curata oggi dalla sede di Brindisi da Dario Spagnolo e Alessandro Colavito tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale ci occupiamo adesso di polizia locale presentati a Brindisi i primi sei tra gli agenti ne ho assunti a tempo indeterminato è un organico ancora sottodimensionato rispetto al passato e soprattutto alle necessità della città ma di certo con gli 11 agenti in più dei quali solo 6 a tempo indeterminato la polizia locale di Brindisi potrà tirare un sospiro di sollievo nei quartieri periferici saranno presenti i vigili di prossimità punti di riferimento per i cittadini la presentazione ufficiale questa mattina nella sede del comando noi abbiamo un gap rispetto a quello che è la dotazione organica prevista dal comune per la polizia locale di circa 50 unità con queste alla fine del saldo 5 unità in più andiamo a colmare un vuoto abissale che c'è però è già un primo passo che contiamo unitamente all'amministrazione di colmare anche negli anni a venire e non parlo di dati astratti ma parlo rispetto a quella che era la dotazione della polizia locale 12 anni fa qui a Brindisi a questo si aggiunga che rispetto alla normativa regionale addirittura saremmo deficitari di un centinaio di unità insomma questo per darvi idea di quello che è il lavoro e la fatica che si fa quotidianamente per garantire il servizio nonostante le scarse risorse umane però partiamo intanto siamo partiti bene già lo scorso anno con le prime sette assunzioni queste altre dodici cui ripeto poi faranno da contraltare la cessazione dell'attività da parte di sette unità tra qui e scienze e mobilità all'esterno e comunque puntiamo molto anche sull'entusiasmo sulla preparazione di questi ragazzi che hanno già una scolarizzazione di base molto alta come si suol dire arrivano i rinforzi noi li attendevamo da tanto siamo contentissimi di aver incontrato oggi tutti i nuovi agenti che hanno sottoscritto il loro contratto di lavoro e siamo soprattutto contenti per come giustamente lei ha osservato per un maggiore controllo del territorio ma anche cosa per noi molto importante la possibilità di istituire i vigili di prossimità quegli agenti quindi che saranno a diretto contatto con le zone periferiche con quella parte di comunità che dopo l'abolizione delle delegazioni di quartiere sono rimasti un po' diciamo privi di un contatto diretto con il palazzo comunale quindi siamo assolutamente contenti per un verso e convinti che la nostra città possa agire con maggiore sinergia in tutte le zone e soprattutto nei quartieri che per anni sono stati un po' trascurati Sanità e lavoro al centro della campagna elettorale del candidato sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella prosegue la campagna elettorale la campagna elettorale entra nel vivo ad Ostuni il candidato del centro-sinistra Domenico Tanzarella si dice ottimista forte anche dei recenti sondaggi sull'esito delle consultazioni e chiarisce alcuni importanti aspetti non faremo accordi per l'eventuale ballottaggio annuncia non accetterò ricatti di ogni genere da nessuno punta con forza sulla battaglia sulla sanità voglio dare un giudizio negativo afferma Tanzarella su quanto fatto fino ad oggi da Michele Emiliano nella città di Ostuni a iniziare dai problemi in merito al nostro ospedale per aver fatto pochissimo per l'intera provincia di Brindisi che oggi il futuro di questa città sta in questa grande coalizione civica che raccoglie esperienze che vengono dal PD dai socialisti dall'UDC da tanti professionisti da tante persone animate da entusiasmo da passione civile che vogliono riprendere un percorso di crescita ma soprattutto di democrazia di libertà in questa città che è così bella ma così abbandonata in questi anni io ho fatto ieri una passeggiata nel paese partendo proprio da questa villa comunale sono sceso giù nella parte bassa del paese via Leoronzo 40 sono ritornato in piazza e ho concluso purtroppo per me la mia lunga passeggiata all'ospedale civile di Ostuni sul quale poi ritornerò guardate una dimostrazione di un abbandono e di un degrado partendo da questa magnifica meravigliosa villa comunale custode di una storia di una tradizione della nostra città apprezzata dai meno giovani dai giovani che avrebbe potenzialità e che potrebbe sicuramente diventare anche un coagulo un punto di riferimento per quanto riguarda eventi di socializzazione per i piccoli e per i meno piccoli bisogna concretizzare e realizzare e valorizzare quello che siamo riusciti a fare con i soldi pubblici perché Domenico Tanzarella faceva tutte queste opere pubbliche senza aumentare mai le tasse a Francavilla Fontana la rappresentazione teatrale delle quinte classi del liceo classico Lilla nell'ambito del progetto internazionale di un progetto internazionale che si concluderà a Roma agli inizi di giugno parliamo di questo lavoro con Gabriella Solazzo con gli occhi di donna con gli occhi di donna è un lavoro che è stato ispirato da tanti eventi che stanno succedendo ultimamente e che ci portano a riflettere fortemente sul fatto che dobbiamo trasformarci e dobbiamo pensare diversamente la società e la vita i ragazzi devono riflettere su qualcosa di fondamentale non bisogna avere pregiudizi quindi la società deve essere pensata con occhi che si trasformano con occhi diversi Allora Federica un tema forte Ermafrodito Sì è un tema forte è un tema che sicuramente tocca mi auguro che ci sia stata una sorta di sensibilizzazione appunto riguardo questo tema perché oggigiorno è piuttosto difficile poter trovare l'uguaglianza la parità dei sessi Allora Giuseppe una parte importante è quella della musica Sì diciamo il contorno senza non togliere gli attori che sono stati forse i veri protagonisti però comunque molto molto importante siamo fieri comunque di aver fatto il nostro lotta all'esclusione lotta alla povertà e te lo pellegrino Sì diciamo che è un lavoro politico nel senso anche al termine politico perché vogliamo un recupero di tutto ciò che è valoriale e anche sia con l'ironia e sia con la poesia il nostro obiettivo era far riflettere sul rifiuto che spesso si opera al giorno d'oggi dei più essenziali valori di dignità e di accettazione credo che sia coraggioso il tema che è stato trattato e come è stato trattato soprattutto la cosa che mi ha sorpreso ma neanche poi forse più di tanto è come i ragazzi hanno interpretato questo tema questo ci fa pensare che sono sempre sono molto molto più avanti di quello che pensiamo e che probabilmente ci fanno anche sperare in una di questa nuova generazione in un futuro davvero dove pregiudizi si saranno veramente superati completamente ha presi tanta soddisfazione soprattutto in attesa di Roma sì è una grandissima opportunità per noi è un modo anche per confrontarci con una realtà più grande della nostra è un modo anche per dare ulteriore possibilità ai nostri ragazzi motivarli a continuare a fare sempre meglio apriamo la pagina dedicata allo sport il calcio iniziamo dalla serie C domani il secondo turno dei playoff per la promozione in serie B con la Virtus Francavilla che sarà impegnata alle 20 e 30 a potenza gara a secca passerà il turno o chi vincerà nel corso del match oppure in caso di parità il potenza in quanto meglio o piazzata al termine della stagione regolare non ci saranno infatti i tempi supplementari e i calci di rigore chi passerà invece si guadagnerà l'accesso alla prima fase nazionale dei playoff intanto tornando al primo turno la gara tra Francavilla e Casertana riviviamo il botta e risposta tra il tecnico della Casertana Pokesci e il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magri il solito Sandro Pokesci il tecnico arriva come un fiume in piena dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla l'allenatore della Casertana è polemico per diverse scelte arbitrali la Casertana ha lottato e credo che dobbiamo essere giudicati per come giochiamo la Virtus Francavilla ha vinto questa gara con le buone e con le cattive Francavilla c'è stata al superiore perché si è determinata voleva il risultato l'ha ottenuto con le buone e con le cattive dico le cattive perché al dodicesimo primo tempo un'ammunità di faccia a Castaldo l'arbitro non è stato capace di dare neanche la punizione non l'ammunizione la punizione visto dal quarto uomo perché il quarto uomo mi era a due metri io lo vedo frontale non voglio far colere come ha visto perfettamente e ha sbagliato per la seconda volta la manata del nostro capitano che andava espulso anche lui però sono due cose diverse una al dodicesimo e una al settantesimo quando la partita ormai era indirizzata ecco non ci mandassero i quarti uomini poi stanno in panchina guardano e non aiutano che vengono a fare loro devono far rispettare se non vede l'arbitro in campo lui sta di fronte e doveva segnalarlo perché è stata una vomitata sullo zico non è che deve uscire fuori il sangue per tirare fuori un osso ci vogliono le palle anche agli arbitri ci vogliono le palle anche agli arbitri perché era un'escursione aveva fatto una stupidaggine di pensore e veniva espulso e nessuno mi può dire al contrario perché è tale economia ha meritato il franca prima l'unica cosa non cresceremo mai se un gruppo di tifosi insulta un allenatore che non ha fatto niente in Italia non cresceremo mai finché ci sono queste persone che vanno allo stagio per eccitare la vostra squadra perché è una bella squadra portate in alto i nostri colori ma non offendete l'allenatore a bersaglio perché l'allenatore a bersaglio non mi ha fatto niente solamente questo qui purtroppo mi è mancato ancora una volta al sud questa eleganza che più di una volta mi è mancata a Francavilla arrivederci e grazie secca la risposta del presidente della Virtus Francavilla Antonio Magri ancora una volta Pokesci ha dimostrato di non saper perdere non si smentisce mai diversi anni fa lo incontrai quando allenava il Fondi anche allora si rese protagonista di dichiarazioni del genere purtroppo la sconfitta non riesce proprio a digerirla Pokesci non si smentisce mai purtroppo mi dispiace l'ho incontrato la prima volta in Serie D con Sbondi anche lì ci è stato insomma ha creato diciamo dei batti vecchi ha protestato eccetera oggi continuo a farlo ero fiducioso che lo facesse perché nella conferenza sta proprio partita ha speso delle belle parole nei nostri confronti però evidentemente la sconfitta non riesce proprio per digerirla e quindi ritorna sui suoi passi io credo che noi oggi abbiamo non meritato ma strameritato di vincere la partita ancora playoff ma è playoff per l'accesso in Serie D domenica il Labrigni si discena a Venosa per affrontare il livello per la gara d'andata della semifinale nazionale la Lega Nazionale di Lettanti oggi ha cambiato l'orario del match fischio d'inizio alle ore 15.30 e non più alle 16.30 come comunicato in un primo momento quindi si giocherà alle 15.30 è stato redatto stamattina anche il regolamento definitivo si qualificherà per il secondo turno e quindi per la finale la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o a parità di punteggio la squadra che avrà assegnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare qualora risultasse parità nelle reti segnate si qualificherà per la finale la squadra che avrà assegnato il maggior numero di reti in trasferta in caso di parità esatto di risultato tra andata e ritorno si procederà con i tempi supplementari se dovesse persistere ancora la parità poi si procederà con i calci di rigore varranno in pratica le stesse identiche regole delle coppe europee il Brindisi dunque giocherà la gara d'andata domenica alle 15.30 a Venosa il ritorno sette giorni dopo al Franco Fanuzzi sempre alle ore 15.30 ricordiamo che sono in vendita i tagliandi sia per la gara d'andata che per il match di ritorno al Fanuzzi è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi invito a seguire poi per quanto riguarda il Brindisi Calcio domani sera alle ore 21 100 Sport Magazine tutto sui playoff del Brindisi appuntamento domani mercoledì sui canali 15 e 187 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione